Buonasera a tutti, buonasera. Grazie a tutti. Grazie a Paola, la parrocchia, organizzato tutto quanto da farsi in questi giorni e grazie a Don Luigi Maria Epicoco che è venuto a trovarci. Grazie davvero, sei tornato nella nostra parrocchia, noi abbiamo organizzato una presentazione del libro un po' corsara un paio d'anni fa qui nella Sala Tonda e ci fa veramente piacere. Quest'anno abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso rispetto agli anni passati. Abbiamo deciso in qualche modo di strutturare questo incontro come se fosse un cammino, l'incontro si chiama infinitamente di più. L'immagine che per tanti giorni ha accompagnato la promozione di questo evento è questo quadro bellissimo che diventa espressione di prospettiva, di grazia, di bellezza ma anche di impegno. Perché il cammino che Anna, Stefano, questa comunità parrocchiale fa insieme a loro è un cammino fatto di impegno, fatto anche di difficoltà. Non sono mai stato un amante della retorica, quanto è bello soffrire tutti insieme, insomma la sofferenza è comunque un impegno, un impegno che riempie bene la nostra vita. E quindi grazie a Don Luigi abbiamo immaginato questo viaggio, questo percorso che si avvarrà di alcuni lettori, che ringraziamo, un percorso che ci porterà a delle tappe. E poi alla fine di queste tappe ci sarà non un approdo, ma l'enunciazione di uno strumento che farà in qualche modo viaggiare Filippo, la sua storia e tutti quanti noi in modo ancora più agile. E quindi io do subito la parola a Don Luigi e poi ogni tanto ti interromperò in modo da scandire il tempo di questa conversazione e fare in modo che tu perda il treno delle sette. Così rimani insieme a noi e celebri domani la messa con noi. Grazie. Sento l'incombenza di una sala piena che non vedo, perché ho questa luce che diciamo mi illumina tantissimo. Sono molto felice questa sera di essere qui e proprio mentre facevo il tragitto a piedi per venire fin qui in parrocchia, mi tornavano nella mente, nel cuore, anzi soprattutto, alcune parole del Vangelo di Giovanni. A un certo punto Gesù, ormai ci troviamo nella fase finale della sua vita, dice una parola che è sibillina, una parola che nessuno riesce a comprendere in quel momento. Una di quelle parole che vanno rilette alla fine della storia e sicuramente la comunità cristiana che registra queste parole ha riflettuto sul significato di queste parole. A un certo punto Gesù dice, quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Alludeva al momento in cui sarebbe stato innalzato sulla croce ed è qualcosa di assolutamente paradossale, cioè il momento in cui Gesù si trova nella sua massima debolezza, in cui è crocifisso su quella croce, in cui è umanamente fallito, umanamente niente, umanamente schiacciato dalle circostanze e da quello che gli sta accadendo. Lui dice, quello è il momento in cui attirerò tutti a me. Quasi a volerci dire che c'è un fascino misterioso proprio nella croce. Ecco, pensavo a Filippo perché c'è un fascino misterioso che viene dalla croce di Filippo. In fin dei conti se noi siamo qui è perché siamo attirati dentro questo vortice, dentro questo fascino, dentro questa attrazione che questo bambino esercita e ha esercitato nella vita di ciascuno di noi, innanzitutto nella vita di chi l'ha conosciuto, ma è una storia che ormai è diventata anche storia di chi non l'ha conosciuto. E basta a volte farsi una passeggiata in un ospedale o entrare in casa dove la sofferenza ha bussato per rendersi conto che a volte le persone più fragili, le persone più deboli, si portano addosso un fascino particolare. Sono assolutamente attraenti per un motivo misterioso. Soprattutto quando in quel mistero, di quel dolore, noi riusciamo a scorgere che c'è un di più. Un di più. Allora io credo che se questa sera siamo qui è perché c'è un'attrazione che Filippo ha esercitato ed esercita su ciascuno di noi. Ma è un'attrazione concreta che ciascuno di noi tocca in Stefano e Anna, i genitori di Filippo. Io li ringrazio perché la storia di Filippo io la conoscevo fin dall'inizio. Anche a me, per quel passaparola di cui a volte la Chiesa diventa megafono, era arrivata fin dall'inizio, cioè fin da quando i funerali di Filippo sono diventati una Pasqua che hanno fatto riflettere tanti di noi e quindi ci siamo messi a conoscere per bene un po' questa storia. Stefano e Anna li ho conosciuti quest'estate, sono venuti loro in Abruzzo, ci siamo incrociati lì in montagna e mi porto addosso la loro umanità, il fatto che non fanno pornografia con il loro dolore. Scusate se uso questo termine ma in un tempo come il nostro dove molto spesso si fa tanto clamore usando la sofferenza, ecco in loro non ho visto niente di osceno ma ho visto una profonda testimonianza, il fatto che sono rimasti profondamente umani, sono rimasti profondamente umani nella loro sofferenza e io credo che tutti noi dobbiamo obbedire a quella parola del Vangelo che ci dice che una lampada non va accesa e nascosta sotto un moggio, sotto un secchio, ma va collocata in alto affinché illumini tutta la sala. E la storia di Stefano, di Anna, della loro famiglia, la storia di Filippo, non è una storia che può finire in un cassetto, per obbedire al Vangelo una storia che dobbiamo mettere in alto, una storia che possa illuminare tutti gli altri. Ma nel pensare questa serata un'altra faccenda che mi ha colpito moltissimo è il motivo per cui questa serata è stata pensata. Non è un memorial, non è un modo per ricelebrare, diciamo così, la morte di Filippo, ma è qualcosa di infinitamente di più e cerco di spiegare questo prima di addentrarci in queste tre tappe che ci condurranno brevemente in questo nostro pomeriggio. Che cos'è l'infinitamente di più? Quando si perde qualcuno si rimane ostaggio di quella perdita, si entra un po' nella paranoia. Non è cattiveria, è che non riusciamo a staccarci esattamente come non riusciva a staccarsi la Maddalena dal sepolcro. L'assenza di chi amiamo diventa totalizzante. E quindi amare per noi significa rimanere aggrappati a quell'assenza, rimanere in maniera paranoica aggrappati a quell'assenza. In termini molto laici dovremmo dire che è un percorso di un'elaborazione del lutto, ma non è detto che ciascuno di noi riesce a elaborare questo lutto. Conosco persone che per 20, 30, 40 anni, per il resto della loro vita, sono immerse nel loro lutto. Cioè quell'assenza e quella mancanza è diventato l'unico panorama che li tiene ancora legati alle persone a cui vogliono bene. Invece, vedete, c'è un momento nella vita di ciascuno di noi in cui la vita ci viene addosso come andare a sbattere contro un palo. Nessuno di noi, a meno che non abbia qualche problema, vuole andare a sbattere contro un palo. Eppure, certe volte succede questo. Cioè, la sofferenza che non ti cerchi e che a un certo punto bussa alla porta della tua vita ti giunge come una mazzata, come una botta. Allora, c'è un momento in cui quella botta ti fa male e quel dolore attira completamente tutta la tua attenzione. Ma poi c'è un momento in cui tu ti accorgi che il palo contro cui tu sei andato a sbattere non è semplicemente un palo che ti ha fatto male, ma è un segnale. Tu ti accorgi che è come un segnale stradale, che ti sta indicando qualcos'altro, qualcosa di più grande. Cioè, Filippo non può essere la sua assenza. Filippo non può essere semplicemente il suo passato. Filippo non può essere semplicemente la narrazione della sua malattia. Filippo non è soltanto la botta. Arriva un momento in cui dobbiamo capire, aprendo gli occhi, passato, diciamo così, l'impatto del dolore, che cosa ci sta indicando la sua storia. Che cosa ci indica, Filippo? Cioè, verso dove ci sta spingendo. C'è un momento in cui dobbiamo alzare lo sguardo, in cui ci accorgiamo che c'è infinitamente di più. Che quello che a noi sembrava semplicemente la fine è quello che a volte può diventare la celebrazione continua e compulsiva di una fine. In realtà è semplicemente l'inizio di qualcos'altro, di misterioso che non conosciamo, ma di cui dobbiamo essere disposti a metterci in ascolto, a guardare, a seguire. C'è un infinitamente di più dopo che la vita, come un imprevisto, si è affacciata dentro le nostre esistenze e ci ha fatto male e ci ha costretti a fare i conti con un realismo che non avremmo mai voluto incontrare. E per me è una grossissima testimonianza che un padre e una madre arrivino al punto di lasciare veramente andare Filippo. Cioè di lasciare andare la sua assenza e di lasciare che diventi davvero un sacramento, un segno, un'indicazione per un infinitamente di più. Che mi piacerebbe che questa sera tutti noi ne riscoprissimo perlomeno la nostalgia, perlomeno la voglia, perlomeno la direzione. Dove andare a prendere le coordinate per imparare questo infinitamente di più, per uscire fuori da questo sguardo di paranoia, dove imparare ad alzare lo sguardo, ad allargare l'orizzonte. La Bibbia è piena di storie. E di storie che non hanno molti effetti speciali, di storie che a volte sono storie di cronaca nera, storie piene di contraddizioni, storie nostre, storie di umanità. Allora siamo andati a ripescare all'interno della Bibbia tre storie, tre momenti, come tre passaggi. Tre storie che potessero in qualche maniera dirci qualcosa su questo infinitamente di più. Che cos'è questo infinitamente di più? Come lo hanno vissuto gli altri? Che cosa hanno da insegnare gli altri? Abbiamo così trovato nell'Antico Testamento due donne, due donne straordinarie, che normalmente nel nostro immaginario sono donne marginali, donne che abitano la periferia dell'immaginario cristiano, Noemi e Ruth. Ma ci accorgeremo invece del protagonismo profondo di queste donne, dell'infinitamente di più che si apre dalla loro storia. E poi invece altre due storie prese dal Nuovo Testamento. La storia di un uomo, siamo più o meno a casa sua, questa è la terra di Paolo e di Pietro, ed è la storia di Pietro. Un pezzo della sua storia ci insegnerà un altro passaggio dell'infinitamente di più. E per concludere ci affideremo a due giovani, due giovani famosi, famosi per, diciamo così, per quella frazione verso cui stavano camminando, Emmaus. E non potevo non concludere e facendoci aiutare da questi personaggi, perché diciamo che sono stati proprio i discepoli di Emmaus a farci incontrare con Stefano e Anna. Qualche tempo fa ho scritto un libro a partire proprio da questa storia di risurrezione, da questo sentiero di ritorno. Allora, qual è l'infinitamente di più che nasce da quella Pasqua? Come faremo questo percorso? Ascolteremo un pezzo di questa storia e poi ci prenderemo qualche minuto per riflettere su questa storia e così, di tappa in tappa, arriveremo a un infinitamente di più che si chiama Filippo, che ha da dirci qualcosa di breve, ma che credo rimarrà significativo per ciascuno di noi. Ascoltiamo insieme. Al tempo in cui governavano i giudici, ci fu nel paese una carestia e un uomo di Bethlehem e di Giuda emigrò nella campagna di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Noemi, i suoi due figli Maclon e Killon. Erano i fratelli Bethlehem e di Giuda. Giunti nella campagna di Moab vi si stabilirono. Poi Elimelech, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i due figli. Questi sposarono due donne di Moab, dalle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Abitavano in quel luogo da circa dieci anni, quando anche Maclon e Killon morirono tutti e due e la donna rimase priva dei suoi due figli e del marito. Allora si alzò con le sue nuore per andarsene nella campagna di Moab perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Partì dunque con le due nuore da quel luogo e mentre era in cammino per tornare nel paese di Giuda, Noemi disse alle due nuore andate, tornate ciascuno a casa di vostra madre. Il Signore usi bontà con voi come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Essa le baciò, ma quelle piansero ad alta voce e le dissero Noemi rispose Tornate indietro figlie mie perché verreste con me? Ho io ancora figli in seno che possano diventare vostri mariti. Tornate indietro figlie mie andate, io sono troppo vecchia per avere un marito. Se dicessi ne ho speranza e se anche avessi un marito questa notte e anche partorissi figli verreste voi vorreste voi aspettare che diventino grandi e vi esterreste per questo dal maritarvi? No figlie mie io sono troppo infelice per potervi giovare perché la mano del Signore è stesa contro di me. Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo. Orpa baciò la suocera e partì ma Ruth non si staccò da lei. Allora Noemi le disse ecco tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dèi torna anche tu come tua cognata ma Ruth rispose non insistere con me perché ti abbandoni e torni indietro senza di te perché dove andrai tu andrò anch'io dove ti fermerai mi fermerò il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio dove morirai tu morirò anch'io e vi sarò sepolta il Signore mi punisca come vuole se altra cosa che la morte mi separerà da te quando Noemi la vide così decisa ad accompagnarla cessò di insistere così fecero il viaggio insieme fino a Betlemme quando giunsero a Betlemme tutta la città si interessò di loro le donne dicevano è proprio Noemi essa rispondeva non mi chiamate Noemi chiamatemi Mara perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota perché chiamarmi Noemi quando il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice così Noemi tornò corrutta la Moabita sua nuora venuta dalle campagne di Moab esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo è una storia di normalità un uomo e una donna si amano c'è un periodo di crisi forse una crisi come le nostre vogliono fare una famiglia allora vanno via emigrano cercano la fortuna altrove con tanti sacrifici lontani da casa costruiscono la loro famiglia mettono al mondo due figli ma poi a un certo punto lui muore e questa donna rimane da sola l'assenza di qualcuno che ami di un compagno di vita di un marito è un vuoto che accade accanto a te è un vuoto di compagnia è un vuoto in cui il tuo cammino comincia a diventare precario perché ti accorgi di avere responsabilità ma non trovi nessuno accanto che possa aiutarti in questa responsabilità è una di quelle tante donne che da sole devono crescere dei figli noemi che significa gioia letizia comincia a sperimentare invece l'amarezza della vita a un certo punto e l'abbiamo ascoltato dirà di se stessa la mano del signore è contro di me eppure con tanti sacrifici cresce questi figli che diventano grandi e trovano due donne due donne del posto e si sposano ma poi una alla volta entrambi i figli muoiono noemi la vedova diventa anche una madre che piange i due figli che non ci sono più nell'immagine che c'è dietro la sofferenza di questa donna in realtà c'è un vuoto c'è la totale precarietà è una donna che non può aspettarsi più niente dalla vita è una donna che diventerà essa stessa una periferia essa stessa la vera immagine della povertà perché dovrai lemosinare l'esistenza nessuno può più provvedere a lei né suo marito né i suoi figli che sono morti sono rimaste accanto a lei semplicemente le due nuore una storia molto particolare uno dei rari casi in cui suocere e nuora vanno d'accordo e Noemi si accorge che l'unica cosa che può fare in quell'assenza in questa vita che sta andando a rotoli anzi che è andata tutta a rotoli e cercare di non coinvolgere nella propria infelicità queste donne per questo le congeda le allontana dice di prendere a queste donne la loro strada di tornare a casa è una cosa paradossale quando noi soffriamo quando ci rendiamo conto che la vita ci ha tolto tutto quando piombiamo in un'infelicità che ormai è strutturata l'unica cosa di intelligente che ci viene da fare è cercare di non dare fastidio agli altri di non appestare gli altri con la nostra infelicità e quindi vogliamo prendere distanza dagli altri il dolore ci spinge a prendere le distanze dagli altri con una motivazione anche abbastanza profonda è la motivazione di chi vuole proteggere gli altri dalla medesima sofferenza come se la sofferenza fosse una peste come se fosse una malattia contagiosa ed è soltanto una di queste nuore che ragiona davvero una di queste nuore che si lascia convincere dalla logica di Noemi è Orpa che seppur nelle lacrime decide di tornare a casa decide di ricominciare la propria vita decide di ricostruire la sua storia lontana da quello che è accaduto da questo evento di cronaca nera c'è un'altra donna invece Ruth Ruth che in una maniera irrazionale invece rimane attaccata completamente attaccata a Noemi e dice il mio destino è mescolato al tuo destino ma io non ho da offrirti niente dice Noemi non posso mettere al mondo altri figli non ho nulla io sono semplicemente nuda povertà e Ruth dice il mio destino sia il tuo destino tanti passi metterai tu tanti passi metterò io è un'immagine bellissima di chi nonostante quello che è accaduto dentro la nostra vita vuole stare dentro la nostra vita anche se noi non abbiamo da offrire più nient'altro anche se ormai l'infelicità sembra il nostro vero destino ci sono delle persone che con una gratuità straordinaria con una grazia straordinaria vogliono condividere fino in fondo la nostra condizione non perché cercano da noi qualcosa perché non possiamo dargli più niente ma semplicemente perché ci amano di amore gratuito è la storia di Ruth allora queste due donne sole che non hanno più nulla che hanno un destino segnato che stanno ormai camminando sull'orlo della loro fine quanto durerà ancora il loro peregrinare quanto durerà ancora la loro fame prima che muoiano di fame Noemi torna indietro torna nella sua terra cerca lì la carità giusta per poter tornare a vivere e Ruth la segue in questa terra è il tempo in cui le messi si colorano in cui il grano deve essere raccolto è un'estate e guardate c'è un contrasto profondo tra il profondo inverno che si porta nel cuore Noemi e invece questa stagione estiva con quella luce con quella vita che va raccolta questa vita che deve essere raccolta proprio proprio nel grano Noemi cambierà il suo nome non vorrà più chiamarsi Noemi Gioia Letizia no vuole chiamarsi Mara perché la sua vita è diventata Amara Noemi è diventata l'amarezza della sua vita Noemi non è più la donna di prima Noemi adesso è Mara eppure vedete dietro questa storia c'è qualcosa che accade l'attaccamento di Ruth a Noemi diventerà la chiave di volta di ogni cosa perché è proprio quando andranno in questa terra Ruth riuscirà ad entrare nelle grazie di un lontano parente di Noemi riuscirà poi a diventare sposa di quest'uomo tutto sarà diventerà di nuovo storia storia dritta storia luminosa storia dove c'è un grande significato perché Ruth metterà al mondo Obed Obed che è il nonno di Davide Noemi la madre che ha perso i figli la donna che ha perso il marito diventerà nutrice di Obed Obed il papà di Iesse Iesse il padre di Davide Davide la discendenza da cui nascerà Gesù queste donne entrano nella genealogia di Gesù queste donne con una vita storta qual è l'infinitamente di più di questa storia tutto sembra finito tutto sembra condannato ormai a non avere nessuna via di uscita eppure c'è una svolta un infinitamente di più che nasce da cosa dal fatto che Noemi si lascia voler bene nella sua sofferenza io credo che sia una lezione per ciascuno di noi cioè se è vero che noi non possiamo evitare alcune cose che accadono dentro la nostra vita l'errore più grosso che noi possiamo vivere dentro la nostra vita è quello di non lasciarci voler più bene di pensare che la nostra sofferenza deve isolarci debba renderci profondamente da soli invece ci vuole un'umiltà profonda l'umiltà di Noemi di lasciarsi voler bene nella sua disperazione di lasciarsi voler bene nella sua infelicità nel suo dolore l'infinitamente di più e permettere alle persone che ci sono accanto di continuare ad amarci nonostante non possiamo dare più niente e quando tu permetti alle persone di volerti bene comunque anche se la tua vita va a rotoli il Signore invece scrive una storia di salvezza sta costruendo una storia che salva una storia che tu non conosci un infinitamente di più che è più grande di quello che ormai ti definisce Noemi e Noemi non è Mara e tutti noi la ricordiamo come gioia e letizia anche se ha avuto una vita difficile l'infinitamente di più nasce da questa umiltà dal permettere di lasciarci voler bene nonostante pensiamo che nella nostra vita non ci sia più bene ma adesso invece facciamo un passo ulteriore lasciamo queste donne lasciamo la loro storia lasciamo il loro dolore trasfigurato trasformato l'orizzonte che si è allargato nella loro vita un orizzonte che è diventata la genealogia di Gesù e a queste donne invece su cui si cala un po' il sipario accendiamo invece una luce una luce imbarazzante perché dobbiamo prendere un segmento della vita di quest'uomo imbarazzante è il momento in cui Pietro sì lui Cefa l'uomo su cui Gesù dice che vuole costruire la sua chiesa il fondamento la roccia su cui la chiesa c'è ed esiste invece si riscopre non una persona affidabile si riscopre invece così umano forse troppo umano perché lui insieme a Giuda si macchierà dei più atroci delitti dell'ora della passione più dolorosi ancora del dolore fisico che Gesù dovrà sopportare perché vedete c'è un dolore che fa più male e il dolore che viene dalle persone che ci vogliono bene ecco quel dolore morale credo che sia una di quelle piaghe nascoste profonde che ha reso veramente amare la passione di Cristo ma ascoltiamo la sua fine ascoltiamo il suo infinitamente di più dopo averlo preso lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote Pietro lo seguiva da lontano siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno anche Pietro si sedette in mezzo a loro vedutolo seduto presso la fiamma una serva fissandolo disse anche questi era con lui ma egli negò dicendo donna non lo conosco poco dopo un altro lo vide e disse anche tu sei di loro ma Pietro rispose no non lo sono passata circa un'ora un altro insisteva in verità anche questo era con lui è anche lui un Galileo ma Pietro disse oh uomo non so quello che dici e in quell'istante mentre ancora parlava un gallo cantò allora il signore voltatosi guardò Pietro e Pietro si ricordò delle parole che il signore gli aveva detto prima che il gallo canti oggi mi rinnegherai tre volte è uscito pian anzi amaramente tra quelli che vengono ricordati come gli strumenti della passione i cosiddetti armacristi i segni della passione i chiodi il martello gli sputi la lancia la corona di spine è riportato anche un gallo un gallo che sta proprio a simboleggiare questa storia questo momento della passione di Cristo qual è se il dolore di Noemi e di Ruth è un dolore che non hanno scelto ma che è accaduto dentro la propria vita c'è un dolore invece di cui i responsabili siamo noi c'è un dolore che viene dalle nostre scelte dalle nostre azioni da quello che diciamo da quello che facciamo c'è qualcosa che dobbiamo scoprire che è infinitamente di più rispetto alle nostre azioni alle nostre cadute a quello di cui ci macchiamo perché una parte della nostra vita accade costruendoci delle immagini ad esempio quando tu sposi qualcuno sposi una donna un uomo quando metti al mondo un figlio ti immagini quale donna sarai quale uomo sarai quale padre quale madre ciascuno di noi si costruisce un'immagine di sé e cerca di riempire quest'immagine di tutto il bene del mondo e ci sono dei momenti in cui tu ti convinci di essere capace di tutto il bene del mondo finché poi la vita non ti ricorda che tu in realtà sei un uomo sei una donna sei profondamente umano anche tu puoi sbagliare anche tu non per forza devi essere sempre all'altezza di quello che ti sei immaginato si può fallire come marito come moglie come padre come madre come amico come medico come prete come avvocato si può fallire si può fallire in questa vita e si diventa molto adulti quando tutto l'immaginario che ci siamo costruiti su di noi poi si scontra con la realtà e qual è la realtà guardate che la realtà di Pietro non è la realtà di aver rinnegato Gesù ma il fatto che Pietro non aveva preventivato che la paura potesse giocargli questo scherzo non aveva preventivato l'incontro con la paura con la paura della morte morire è una cosa seria e quando lui si è trovato faccia a faccia con quello che è la sofferenza a cui sta andando incontro Cristo col destino certo che lo porterà a morire su una croce Pietro ha paura e quella paura gli suggerisce parole che non avrebbe mai voluto dire non lo conosco non lo conosco quale dolore quando per tre volte Pietro dice queste parole che non avrebbe mai voluto pronunciare e poi un gallo lo sveglia da questo sonno e poi è lo sguardo di Gesù che di sfuggita incrocia lo sguardo di Pietro così come abbiamo ascoltato e c'è qualcosa che accade tutto sembra finito l'infamia sembra consumata l'amaro sembra diventato infinito l'amaro della passione di Cristo che non soltanto vede i nemici contro ma vede gli amici contro anche il mio amico il mio compagno il confidente colui che ha mangiato con me il mio pane alzato contro di me il suo calcagno dice un salmo ecco Pietro fa questa esperienza ma cosa succede che l'incontro con lo sguardo di Gesù gli gli indica un infinitamente di più è nel segno del pianto questo infinitamente di più io credo che tanto infinitamente di più dentro la nostra vita accade quando facciamo pace col nostro io reale con la nostra incoerenza quando torniamo a permetterci di nuovo di piangere per esperienza personale forse perché in parte l'ho vissuta io forse perché ascoltando le confidenze l'intimità di tante persone mi rendo conto che può essere una costante ma quando si perde qualcuno ad esempio dopo che si è affrontato qualcosa di difficile molto tempo lo passiamo rimurginando l'idea che forse avremmo potuto fare di più che potevamo essere persone migliori che forse non abbiamo dato il massimo che forse dovevamo provare in un altro modo cominciamo a colpevolizzarci e quando ci pensiamo forse abbiamo anche ragione forse potevamo fare diversamente forse avremmo potuto provare da un altro lato e così questa colpa questo rancore questo questa consapevolezza di questo male di cui ci sentiamo macchiati comincia a divorarci e che cosa ci salva se non l'esperienza della misericordia l'esperienza di uno che tronca completamente questo tipo di ragionamenti e ci spinge a piangere a piangere come piange un bambino quando viene fuori dal grembo della madre come il pianto di un parto e il pianto di Pietro perché il pianto di uno che incontra un infinitamente di più della sua vita un infinitamente di più nella sua vita perché si perdona e si lascia perdonare la maledizione di Giuda non è nel tradimento la maledizione di Giuda è nel non perdonarsi nell'essere rimasto invischiato in questa colpa nel non aver lasciato che Gesù lo raggiungesse col suo sguardo l'infinitamente di meno di Giuda quello che gli toglie la vita sta nel non aver pianto nel non aver rincontrato quella che noi oggi possiamo definire usando le parole di un grande maestro di vita spirituale l'acqua del battesimo quando Pietro piange quella è l'acqua del battesimo che gli esce dagli occhi quante volte nella vita quest'acqua del battesimo torna a sgorgare dai nostri occhi tutte quelle volte che ci accorgiamo che siamo semplicemente umani che non siamo sempre all'altezza delle cose che a volte ci stanchiamo che sotto le croci che ci tocca vivere certe volte crolliamo che non siamo sempre coerenti che non siamo sempre un buon esempio il Signore non ci ha chiesto però di essere un buon esempio il Signore ci ha chiesto di essere testimoni e i testimoni sono sempre alla maniera di Pietro se il Vangelo avesse voluto barare ci avrebbe nascosto questa storia invece il Vangelo ci racconta questa storia perché vuole dire a ciascuno di noi che nessuno di noi può mai porsi verso l'altro come un ideale io questo non l'ho mai fatto e tu invece sentiti in colpa perché questo lo fai siamo tutti dei peccatori pentiti siamo tutti degli incoerenti che incontrano la misericordia siamo tutte persone che hanno bisogno di sapersi perdonati persone che devono avere l'umiltà di lasciarsi perdonare persone che devono perdonarsi quando incontriamo il dolore quando incontriamo le cose che nella vita ci tolgono tutto si può rimanere in ostaggio di questo dolore quando non facciamo entrare il perdono quando noi non ci perdoniamo quando noi non accettiamo che anche noi eravamo umani profondamente umani quando abbiamo vissuto tutto questo e non eravamo chiamati ad essere perfetti eravamo chiamati ad essere come Pietro persone che cadono e si rialzano persone che sanno piangere pentirsi persone che sanno convertirsi persone che sanno lasciarsi raggiungere dalla misericordia la bellezza della sofferenza non è nel pianto ma nella trasfigurazione del pianto ci sono delle lacrime che nella sofferenza ci rendono delle persone nuove nuove perché abbiamo una consapevolezza nuova nuova perché le lacrime sono per noi come un collirio che ci faranno riguardare la vita a partire da un altro punto di vista quanta sfiducia Pietro avrà in se stesso e dovrà ancora intervenire il Signore a ridargli di nuovo fiducia perché succede sempre così quando tu devi affrontare una cosa difficile c'è l'adrenalina una grazia nascosta che ti permette di affrontare quel momento ma finito quel momento difficile quell'adrenalina scompare quella grazia è come se a un certo punto si nasconde e tu ti trovi a dover fare i conti senza più avere la forza senza più dire come si fa come si fa a portare il peso di una cosa del genere come si fa a portare il peso di una mancanza come si fa a portare il peso di una notte del genere come si fa a portare il peso di tre volte non lo conosco come si fa a portare il peso del buio solo con la misericordia si riesce a portare il peso del buio solo la misericordia apre un infinitamente di più per Pietro sì Pietro colui che aveva paura di morire e incontra un infinitamente di più qui a Roma a pochi passi da dove ci troviamo noi sul colle Vaticano Pietro trova il coraggio di dire di sì di non scappare più davanti alla paura della morte e muore per chi ama muore senza più scappare non è diventato coerente è diventato così profondamente umano è così rafforzato da questo amore che trova il coraggio amici miei l'infinitamente di più è trovare coraggio nella nostra umanità l'infinitamente di più non è non sbagliare l'infinitamente di più è accettare di poter sbagliare e rendersi conto che in quell'errore a volte è nascosta una direzione che ciascuno di noi deve prendere iniziando a piangere ma nel fiume delle lacrime di Pietro e di questo pentimento che tirerà fuori un uomo che confermerà i suoi fratelli comincia l'albeggiare di qualcosa di diverso la cronaca nera sta diventando invece una cronaca luminosa la storia di buio sta diventando una storia di luce ma nessuno lo sa il Vangelo ci racconta della Pasqua ma nessuno lo sa che Pasqua non lo sa nessuno le prime persone che incontreranno il risorto non sanno che Pasqua sono convinti che l'unica cosa che esiste è il venerdì santo la risurrezione è qualcosa che si capisce dopo un po' dopo un po' di tempo gli effetti della risurrezione ce ne accorgiamo semplicemente camminando abbiamo bisogno anche noi di ritrovare un cammino abbiamo bisogno anche noi di seguire le tracce di qualcuno abbiamo bisogno anche noi di attraversare questo buio allora per non perderci una signora prima mi ha detto che è arrivata qui seguendomi vedendomi alla fermata della metro il Vangelo è pieno di situazioni del genere e questa sera vogliamo fare così anche noi per non perdere la strada seppur in lontananza mettiamoci a seguire due ragazzi due ragazzi ormai diventati famosi ma che hanno molto da insegnarci sull'infinitamente di più i discepoli di Emmaus ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme di nome Emmaus e conversavano di tutto quello che era accaduto mentre discorrevano e discutevano insieme Gesù in persona si accostò e camminava con loro ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo ed egli disse loro che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino si fermarono col volto triste uno di loro di nome Cleopa gli disse tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni domandò che cosa gli risposero tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo come i sommi sacerdoti i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso noi speravamo che fosse lui a liberare Israele con tutto ciò sono passati tre giorni da quanto queste cose sono accadute ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti recatasi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli i quali affermano che egli è vivo alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne ma lui non l'hanno visto ed egli disse loro sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria e cominciando da Mosè tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui quando furono vicini al villaggio dove erano diretti egli fece come se se ne dovesse andare più lontano ma essi insistettero resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino egli entrò per rimanere con loro quando fu a tavola con loro prese il pane disse la benedizione lo spezzò e lo diede loro allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero ma lui sparì dalla loro vista ed essi si dissero l'un l'altro non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le scritture e partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro i quali dicevano davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane bisogna vincere la tentazione della solitudine dell'isolamento e questo è l'insegnamento che ci viene dalla storia di Noemi e Ruth e perché è questo guardate che non è cattiveria la nostra è che quando tu soffri a un certo punto ti si aprono degli alfabeti che ti rendono incomprensibile agli altri non ti senti più capito e ti senti a disagio come se gli altri non possono veramente capire quello che tu stai vivendo allora l'unica cosa che ci dà sollievo dopo un'esperienza di sofferenza è evitare l'incontro con l'incomprensione degli altri ci sentiamo soli scegliamo questa solitudine perché ci dà sollievo questa solitudine abbiamo detto che non c'è nessun infinitamente di più quando scegliamo invece questa solitudine questo isolamento l'infinitamente di più invece è sapersi mettere contro questa solitudine contro la tentazione di questo isolamento l'infinitamente di più nasce da Noemi che si lascia voler bene da Ruth l'infinitamente di più è lasciarsi amare nella propria sofferenza è lasciare che la gratuità di qualcuno possano lasciarci da soli ma poi il dolore è anche quello che ci ha insegnato Pietro è il senso di colpa una colpa che abbiamo fatto forse che non abbiamo fatto cosa dovrebbe fare un padre una madre se non difendere la vita del proprio figlio e quando ci si accorge che non si può difendere la vita del proprio figlio e quando ci si accorge che in questa guerra tu non puoi fare niente che devi assolutamente sottostare all'impotenza di veder soffrire qualcuno che ami che non riesci nemmeno a far cambio e tu vorresti fare a cambio senza perdono non si va da nessuna parte si rimane ostaggi di questo senso di colpa ostaggi del fatto che noi non siamo stati dei padri ideali delle madri ideali degli amici ideali ma siamo stati così reali così reali di aver sperimentato l'impotenza della nostra umanità davanti alle cose difficili se il senso di colpa decide al posto nostro c'è questo infinitamente di meno che è la fine di Giuda ma quando questo senso di colpa viene distrutto dalle lacrime sciolto dalle lacrime dall'incontro con la misericordia dall'incontro con lo sguardo di Gesù questo diventa l'infinitamente di più di Pietro diventa una storia di santità una storia di credibilità e la credibilità di chi è passato per la strada stretta di quel buio e la credibilità di chi ha sentito sulla propria pelle che cosa significa essere umani essere così fragili essere così impotenti ma poi ecco il sentiero dei discepoli di Emmaus che mi piace sempre definirlo un sentiero di ritorno sentieri di ritorno almeno nella mia idea sono quei sentieri che ci fanno ripercorrere la nostra vita al contrario torniamo torniamo con la coda fra le gambe perché le cose che ci hanno entusiasmato le cose per cui avevamo lasciato tutto le cose per cui pensavamo di dover dare tutta la nostra vita a un certo punto ci hanno lasciato a pieti che fine hanno fatto i nostri sogni che fine hanno fatto le nostre aspettative che fine ha fatto il desiderio di vedere un figlio crescere la vita a un certo punto ti toglie tutto questo e tu l'unica cosa che puoi fare è tornare a casa con la coda fra le gambe anche tu con un sentiero di ritorno è buio e c'è confusione nel cuore di questi due ragazzi ma proprio in quel buio in quella confusione loro non sanno che è il giorno di Pasqua non si scambiano nessun augurio non sanno ancora che cos'è veramente la Pasqua non sanno davvero che cos'è la risurrezione non sanno davvero quello che sta accadendo dentro la loro vita per loro è solo buio confusione e poi uno straniero uno straniero che si affaccia nel loro buio e nella loro confusione uno straniero che comincia a camminare nel loro buio e nella loro confusione che cosa accade quando tutto sembra finito che inizia un nuovo percorso un percorso che non è luminoso che molto spesso è fatto di confusione e di buio è Pasqua ma non sentiamo che è veramente Pasqua e vorremmo che qualcuno rimettesse ordine dentro la nostra confusione che qualcuno ci riprestasse le parole che qualcuno ci svelasse il senso il senso delle scritture che qualcuno ricollegasse i fili i fili di tutto questo caos invece che ci portiamo dentro ed è quello proprio il momento in cui più di tutti gli altri momenti noi abbiamo bisogno di segni abbiamo bisogno di vedere le cose nell'incredulità di questi discepoli nella mancanza di fede di questi discepoli che si traduce poi umanamente nella mancanza di fiducia nella vita sono semplicemente dei delusi che tornano a casa ecco in questa delusione si affaccia il risorto e comincia a far ripartire la loro vita comincia a spiegar loro il senso delle scritture quanto è durato questo tragitto verosimilmente dieci minuti mezz'ora tre ore un pomeriggio una serata il Vangelo non ci dice quanto dura questo percorso a volte amici miei può durare dieci anni vent'anni il resto della nostra vita ma la consapevolezza che ci spinge ad andare avanti è che in quel buio e in quella confusione che proviamo non siamo soli c'è uno straniero che perde tempo con noi uno straniero che comincia a fare una cosa molto semplice è così che lo descrivono i discepoli quando si raccontano alla fine di questa storia che cosa è accaduto non ci ardeva forse il cuore nel petto quando quest'uomo conversava con ciascuno di noi e che cosa significa il cuore che brucia nel petto se non la vita che torna di nuovo ad appassionarti la vita che torna di nuovo a prometterti qualcosa la vita che torna di nuovo ad essere viva per uno che ha sofferto per uno che ha perso qualcuno solitamente non c'è questa esperienza viene inibita questa esperienza perché ci sembra di dover far torto alle persone che abbiamo perduto alle persone che ci mancano non posso tornare a sorridere ad essere felice mi sembra di fare un torto alla sua mancanza alla sua assenza non ci può essere nessun infinitamente di più che si chiama Pasqua quando noi rimaniamo aggrappati solo all'assenza quando noi continuiamo a celebrare in tutti i modi possibili quella mancanza quel funerale quando continuiamo a celebrare quell'assenza in maniera compulsiva no le persone che abbiamo amato le persone che amiamo non possono mai diventare il motivo della nostra disperazione dobbiamo sempre difenderle da questa tentazione dobbiamo sempre lasciare che le persone a cui abbiamo voluto bene le persone che amiamo diventino il motivo del perché la nostra vita vale la pena del perché la nostra vita deve andare avanti del perché la nostra vita deve tornare ad arderci dentro a metterci fuoco dentro a far ripartire di nuovo il cuore perché è Pasqua quando si lascia che quell'assenza diventi di nuovo presenza dove è la morte dove è la morte la morte in quel cuore freddo dove è la vittoria della morte uno straniero che in una maniera misteriosa riaccende il fuoco nel cuore di questi discepoli l'infinitamente di più e tornare di nuovo a vivere veramente a lasciare che la vita torni ad essere qualcosa di vivo a lasciare che la vita possa di nuovo ripartire a partire da quello che abbiamo vissuto e questo risorto che cosa fa poi alla fine le accompagna le accompagna anche se loro non capiscono anche se loro non lo riconoscono le accompagna anche se loro soltanto sentono ci sono dei momenti in cui al buio si può andare solo ad intuito a tentoni in cui abbiamo la sensazione che forse stiamo facendo la cosa giusta ma il copione della nostra vita di quello che succederà domani mattina non è scritto da nessuna parte che cosa ne sarà di noi veramente che cosa ne sarà di noi quando si spegneranno i riflettori quando torneremo nelle nostre case quando dovremmo tornare a quella benedetta e barra maledetta quotidianità dove dobbiamo fare i conti con le cose di sempre con le cose di ogni giorno con le piccole e grandi gioie con le mischinità con la mediocrità che a volte si riaffaccia dentro la nostra vita non lo so non lo so non c'è scritto da nessuna parte c'è scritto che camminavano e che Gesù camminava a loro fianco anche se loro non sapevano che era Gesù ma c'è qualcosa che succede in questo incontro l'infinitamente di più non è semplicemente uno straniero che si affaccia nel buio e nella confusione l'infinitamente di più è la sensazione che poi diventa un grido una preghiera una scusa qualcosa di infinitamente più grande tradotta così resta con noi resta con noi perché si fa sera resta con noi nella sera il giorno ormai volge al declino le cose non sono più chiare per ciascuno di noi resta con noi e questo è molto bello perché vedete per tanto tempo nella nostra vita noi pensiamo che l'unica cosa che può ridarci di nuovo sollievo è una spiegazione sono i concetti ma arriva un momento nella vita in cui non te ne fai niente delle spiegazioni dei concetti hai bisogno di una presenza hai bisogno di una presenza cristianamente parlando guardate che si diventa davvero cristiani quando si trova il coraggio di lasciare le idee di lasciare i concetti i pensieri le filosofie i valori i ragionamenti sul Vangelo e quando si capisce che l'unica cosa che conta davvero dell'avvenimento cristiano è lui è la sua presenza e dire signore io non so nulla non capisco nulla non riesco a vedere nulla ti prego però rimani qua con me ti prego signore resta qua con me resta in questo buio cammina con me in questo buio non spiegarmi più niente non dirmi più niente non voglio sapere niente non voglio sapere la risposta ma ti prego rimani con me questa presenza diventa la nostra forza non abbiamo più bisogno di parole perché finalmente abbiamo qualcuno e finalmente ci accorgiamo che ciò che pensavamo ormai trovarsi alle nostre spalle in realtà è davanti a noi le persone che abbiamo perduto non le abbiamo perdute le persone che non ci sono non sono rimaste indietro ci hanno sorpassato sono davanti a noi e Pasqua significa a volte continuare in questo buio ma veder crescere dentro di noi la consapevolezza che noi stiamo andando incontro a loro e anche se tutto il resto della nostra vita sarà semplicemente un navigare a vista come quando al mattino presto c'è la nebbia e tu devi andare molto piano perché non sai che cosa può essere nascosto in quella nebbia e l'unica cosa che vedi è il passo successivo a volte la nostra vita è semplicemente questo è un passo successivo non abbiamo nient'altro se non il passo successivo è la forza di questa presenza ecco l'infinitamente di più è il cuore che arde è darci il permesso di far ardere di nuovo il nostro cuore è lasciare che ciò che ci ha ferito diventi invece la nostra forza è staccarci dal sepolcro è rialzare lo sguardo è puntare lo sguardo su un orizzonte che pare ancora buio ma è da lì che nascerà di nuovo il sole Noemi Pietro i discepoli di Emmaus e poi una pagina del Vangelo una pagina del Vangelo che non troverete nel Vangelo è la pagina del Vangelo scritta da Filippo ciascuno di noi è chiamato a dover scrivere la propria pagina del Vangelo la propria continuazione di questa storia e mi piace trovare la pagina del Vangelo di Filippo in un gesto di Filippo io ho avuto la fortuna di leggere già il libro che che si sente nell'aria e mi ha colpito moltissimo sapere che Filippo faceva una cosa che è di un simbolismo pazzesco mettere le magliette alla rovescia tutti noi vogliamo mettere le magliette dalla parte giusta per far vedere la marca le immagini le scritte per ostentare qualcosa e questo bambino forse capiva che la cosa che conta di più è quello che c'è dentro il rovescio che la vita eterna non è un'altra vita che quello che stiamo cercando non è un'altra storia che quello che ci salverà non è altrove non è qualcos'altro è la stessa cosa girata dal rovescio e che quello che noi pensavamo essere il rovescio cioè la parte sbagliata in realtà era la parte giusta che quello che pensavamo dovesse essere qualcosa da occultare da nascondere invece è l'unica cosa che va mostrata che tutta l'apparenza del mondo passa che invece le cose che ci portiamo e che viviamo dentro restano e quelle veramente ci definiscono quelle veramente dicono il nostro nome non dicono la marca di qualcun altro non dicono la storia di qualcun altro non dicono quello che gli altri si aspettano da noi dicono noi l'infinitamente di più di Filippo dell'insegnamento di Filippo è imparare il rovescio a metterci le cose al rovescio a saper amare il rovescio di questa vita a saper amare ciò che della vita ci sembra invece la parte sbagliata la parte contraddittoria la parte che non vorremmo la parte che non è bella da vedere eppure è la parte più vera beh sappiate una cosa tra una cosa vera e una cosa bella io preferisco una cosa vera perché una cosa vera è davvero bella davvero bella davvero e credo che ci sia tanta bellezza nella storia rovesciata di Filippo doveva andare diversamente sì doveva andare diversamente poteva andare diversamente sì magari poteva andare diversamente ma non è andata così allora tutto si è rovesciato allora o è tutto finito o tutto sta iniziando voglio dire grazie perché Filippo ci ha segnalato un infinitamente di più grazie diciamo che di solito le incombenze di questo mestiere sono due o cercare di animare il dibattito perché il relatore è insopportabile oppure dover dire qualcosa dopo qualcosa di magistrale che è stato appena detto fortunatamente siamo nella seconda istanza e allora secondo me siccome diciamo hai detto tutto quello che che penso insomma c'era da dire su questo percorso su questo su questo viaggio e questa è una è una tappa mi piace pensare che questo viaggio che che abbiamo intrapreso insieme a Filippo insieme ad Anna Stefano Giovanni a Francesco a tutta questa comunità a tutti quanti quelli che si aggregano fondamentalmente sia un'avventura come dire un po' anche anche un po' confusionaria un po' come diciamo le varie cose che avvengono nella vita accadono sempre di improvviso allora tu prima facevi riferimento insomma a questa cioè hai svelato la sorpresa questa verità te lo devo dire esatto cioè mentre abbiamo mantenuto l'attenzione per mesi eccetera eccetera hai rovinato la sorpresa però sei prete quindi non me la posso prendere con te perché in virtù dell'abito che porti e della funzione che hai però a questo punto io direi di chiamare Anna e Stefano che si collocheranno lì nella parte dei lettori tipo tribunale e chiederei alla regia in verità di darci il contributo d'immagine della sorpresa che ha svelato Don Luigi Allora vi faccio una premessa per Don Luigi lo sa per arrivare a questa cosa è stata una fatica mostruosa convincerti fondamentalmente che era bello che ci fosse un libro e un editor molto importante che non c'è più da qualche settimana diceva sempre anche qui i libri o sono inutili o sono necessari diciamo che con la maglietta a rovescio per noi che lo abbiamo letto in anteprima ha veramente tutte le caratteristiche per essere un libro necessario prima facevo riferimento a uno strumento uno strumento è qualcosa che serve per arrivare da qualche parte un libro di solito io faccio questo di lavoro è sempre uno strumento in principal modo di vanità il libro proprio quando uno fa un libro è capito ho fatto il libro quindi esce dappertutto e fa il libro ecco invece penso che questo libro sia diciamo tutto il contrario della vanità sia un prodotto umile e per questo un prodotto necessario e il mio ringraziamento poi va necessariamente a Stefano e Anna che l'hanno voluto scrivere sono stati tra l'altro velocissimi credo che sia uno dei libri scritti nel minor tempo possibile infatti rimanevo stupito ho finito il libro dopo dieci giorni e quindi do la parola a loro perché insomma diciamo se siamo qui oggi anche vorrei sempre ricordarlo per il loro coraggio per condividere quell'ardore che batte nel petto insieme a noi perché penso che questa sia anche in virtù di tutti questi passi che abbiamo sentito la fatica più grande che chi porta dentro un qualcosa di così forte fa nei confronti degli altri ovvero la condivisione in tutte queste storie c'è un elemento che è la condivisione di un percorso di una strada e spesso la cosa più facile di tutti è quella di rimanere chiusi dentro casa di non esporsi e di non andare in giro e fare non tanto vanto di quel dolore ma metterlo in circolo perché diventi amore e allora il mio applauso e il mio grazie va principalmente a loro che ci hanno fatto nuovamente incontrare intorno a Filippo intorno a questo libro che uscirà nei primi mesi del 2018 a maggio a marzo quindi grazie ad Anna e Stefano grazie a me allora io ho scritto perché lo sento questo ardore che batte nel petto mia sorella Irene che è stata a qualche parte lì giù che verrà ricordata come quella che sa cucinare gli arancini di riso benissimo ha un amore particolare per madre Teresa di Calcutta ognuno ha i suoi santi preferiti infatti sua figlia la sua prima figlia si chiama Agnese come il nome di madre Teresa il nome di battesimo di madre Teresa e c'è una frase una poesia in realtà di madre Teresa che si adatta molto bene ai miei sentimenti alle circostanze insomma madre Teresa dice sono come una piccola matita nelle sue mani nient'altro è lui che pensa è lui che scrive la matita non ha nulla a che fare con tutto questo la matita deve solo poter essere usata ecco chi mi conosce sa che penne matite ho sempre la borsa piena sono i regali che più apprezzo e io mi sento esattamente così in questa circostanza potete non crederci ma questo libro non l'ho scritto io nel senso che io l'unica cosa che ho fatto è stata prestare le mie dita a sbattere sopra una tastiera e se non fosse stato per Massimiliano e per Valeria che anche lei è stata da qualche parte qui cioè io ero veramente contraria a fare questa cosa poi loro hanno insistito Stefano ha insistito e quindi io mi sono seduta davanti al computer erano tre anni che lo chiedevo e circa una settimana dopo c'era giù un libro e quindi insomma mi sembra evidente che questo libro non l'ho scritto io l'ha scritto qualcun altro questo significa che io sto un po' mettendo le mani avanti nel senso che chi avrà la voglia la pazienza di leggere questo libro se vi farà piangere non sono stata io ma è stato qualcun altro se vi farà ridere ringraziate qualcun altro e se lascerà qualcosa nelle vostre vite sappiate che non è una cosa mia ma è un suo dono insomma Stefano vuole aggiungere voglio soltanto dire che non hai rovinato la sorpresa Don Luigi forse l'hai soltanto resa più bella hai rovesciato hai rovesciato il finale e l'hai reso più bello per cui allora ci lasciamo a questo punto con 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 un appuntamento che non sappiamo diciamo ancora ben inquadrano il calendario sarà marzo il 18 marzo sappiamo inquadrarlo bene nel calendario abbiamo preparato questa conferenza in modo molto vedissimo come ogni anno volevo soltanto aggiungere che questo libro è stato scritto in gran parte da anni naturalmente perché appunto soltanto lei ha la velocità di pensiero e di manualità per renderlo come dire in così poco tempo io ci ho giusto messo diciamo qualche piccolo contributo ma la cosa che ci fa più onore è che la prefazione la scriverà Don Luigi che non lo sapeva no scherzo che non lo sapeva questa è la terza volta che mi ha confermato che la scriverà siccome siamo in diretta è come dire ormai non si può esibere ecco ma lui non è Don Luigi Maria Epico bene allora grazie ancora quindi ci rivedremo molto probabilmente il 18 marzo Don Luigi perché diciamo a questo punto sei autore della prefazione e quindi insomma prendila con tranquillità insomma sono bravi persone non ti faranno del male e grazie a voi veramente per essere stati qui questa sera e vi ricordo che adesso ci spostiamo in chiesa perché ci sarà ovviamente la messa come da programma e vi ringrazio ringrazio Don Luigi che diciamo adesso volerà verso la stazione Termini perché ha un treno tra dieci minuti quindi diciamo scomparirà improvvisamente grazie ancora perché sei riuscito anche a incastrare la tua presenza in una marea di cose e grazie a Paola Procaccini a Giovanni Marco Tullio che hanno curato diciamo la parte visual come si dice in gergo Giacomo Di Gravina Giacomo Di Gravina che sì che anche insomma va bene tutti i lettori che ho qui scritti Chiara Pierfrancesco esatto diteli voi Pierfrancesco e Claudio grazie grazie ancora e ci vediamo a questo punto il 18 marzo per presentare e leggere con la maglietta a rovescio storia di Filippo Badaloni edito dalla Porziuncola perché sarà anche molto bello quando Anna e Stefano ci racconteranno di come questo editore è stato trovato un editore che ha avuto anche il merito di di divulgare la storia di Chiara Corbella Petrillo con la prima edizione adesso con l'edizione di San Paolo del del suo libro quindi insomma i presupposti per avere un bellissimo strumento ci sono tutti quindi a questo punto non abbiamo mai fatto gli anni precedenti però ci diamo appuntamento il 18 marzo per presentare questo libro grazie a tutti voi grazie ancora grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti